Musica In questa edizione del Lady News, 35 provvedimenti restrittivi sono stati emessi nei confronti di altrettante persone appartenenti al clan Santa Paola Ercolano. Le accuse sono associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze sulle facenti, essorsione, reati in materia di armi, intestazione e fittizie di beni. Operazione Cleaner della Guardia di Finanza di Catania. Arrestate sei persone per truffa per falsi sgravi di cartelle sattoriali Serit. Da 27 mesi senza stipendio, un lavoratore della formazione mette in medita il proprio rene. Sit-in dei lavoratori delle E-Pub da mesi senza stipendio. CresiTime.it è specializzato nella vendita di orologi ad alto contenuto tecnologico, cardio-frequenzimetro, bussole digitali, orologi radiocontrollati, navigatori GPS. Da CresiTime, vasto assortimento di cinturini e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Approfitta dei mega sconti mondiali. Orologi, moda e gioielli in acciaio delle marche più fashion del momento. Rivenditore ufficiale di orologi, vendita anche online. Scopri le offerte, vai sul sito CresiTime.it e sulla pagina Facebook. CresiTime.it è un'azienda di cinturini e un'azienda di cinturini. Associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stuefacenti, estorsioni, intestazioni fittizie di beni ed altri gravi reati. Con questa accusa, la polizia di Catania ha eseguito 35 provvedimenti restrittivi nei confronti altrettanti indagati. Le indagini condotte alla squadra mobile di Catania hanno permesso di individuare una consorteria criminale diretta a promanazione della potente famiglia mafiosa catanese Santa Paola Ercolano, che aveva imposto una significativa pressione estorsiva nei confronti di numerose attività commerciali operanti nel comprensorio etneo. La stessa organizzazione inoltre gestiva un basso traffico di sostanze stuefacenti, controllando sistematicamente le piazze di spaccio presenti nei popolari quartieri catanesi di San Cristoforo e villaggio Sant'Agata. Le indagini, corroborate anche dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, hanno consentito di disarticolare l'intero organizzazione criminale e individuare l'attuale reggente e la famiglia ritenuto il gestore della cassa degli stipendi e la potente cosca catanese. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati anche significativi quantitativi di cocaina e marioana, armi da guerra e munizioni. La polizia ha anche eseguito, nello stesso contesto operativo, un sequestro preventivo di beni, avente come oggetto alcune società e relativi complessi aziendali operanti nel settore di leri, conducibili all'organizzazione mafiosa, ma fittiziamente intestata a soggetti prestanome. Vi sono diverse piazze di spaccio controllate da diverse organizzazioni criminali, ma lo spaccio non è la sola attività di queste organizzazioni che, come al solito, mirano al controllo delle attività economiche attraverso le estorsioni e attraverso l'infiltrazione negli appalti. Le indagini di questa operazione, denominata Agosto, sono state condotte nell'arco temporale 2009-2011, proseguite successivamente con mirate attività di riscontro ed accertamenti patrimoniali che hanno permesso di individuare in orazio Benedetto Cocimano, il regente militare della famiglia all'epoca dei fatti, nonché il detentore della Cassa degli stipendi e la stessa organizzazione mafiosa. Alla fine del 2009 il Cocimano, personaggio storicamente inserito nella famiglia Santa Paola Ercolano, raggiungeva il vertice operativo dell'organizzazione e, nel medesimo periodo, si rilevava l'ascesa del gruppo dei fratelli Nizza, che costituiva il braccio operativo di questo clan, cui era demandata la gestione dell'illecito traffico di suoi facenti, contrapporendosi nella gestione delle piazze di spaccio all'avversa e agguerita cosca di Cappello Bonaccorsi. Le indagini che hanno avuto inizio con il monitoraggio del gruppo della Civita, storica roccaforte dell'organizzazione, già capeggiata da Carmelo Puglisi, hanno evidenziato come i fedeli della cosca, in primo luogo il citato Cocimano, Orazio Benedetto, ma anche Orazio Magri e Daniele Nizza, erano soliti riunirsi nel piazza Cutelli, via Porta di Ferro. C'è anche una contestazione di associazioni di stampo mafioso, che riguarda la riorganizzazione del gruppo, dopo alcuni arresti che vedeva Cocimano al centro del nuovo gruppo, che fu arrestato anche per evitare che si innescasse una spirale di omicidi e di violenze. Adesso abbiamo chiuso questo cerchio di un'organizzazione forte e Cocimano, tra l'altro, come sapete, è stato in questo momento a giudizio per l'omicidio di Lardo, quindi stiamo parlando dei livelli alti dell'organizzazione Cosa Nostra. A carico di Cocimano è emersa in maniera inequivocabile l'inserimento nel tessuto economico attraverso l'intestazione fittizia a prestanome della titolarità di quote di due società del settore edile, la PML Costruzione SRL e l'ALCO Costruzione SRL, entrambi avente sede legale a Catania, intestata da Antonio Carmelo Musumeci e Alessandro Antonio Musumeci, che ne risultavano gli intestatari. Nell'ambito dell'innagine è stata riscontrata anche l'esistenza di un'organizzazione criminale diretta e organizzata da Daniele Nizza e Rosario Lombardo, che avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche dell'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano, e al fine di agevolarla era dedita al traffico e spaccio di sussurefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish. Ogni attività di spaccio era preceduta da un briefing pomeridiano tenuto allo stesso Lombardo Rosario, con pusher e vedette. Fatto il punto della situazione, alle 20 circa le piazze venivano aperte l'illecito smarcio aveva inizio. L'attività in un primo momento, nelle prime fasi, si è incentrata sulla figura di Cocimano Orazio Benedetto, che è un personaggio storicamente inserito all'interno della cosca, che in quel periodo temporale era anche il reggente militare e il detentore della cassa degli stipendi, che aveva una condotta assolutamente accorta, non utilizzando telefoni cellulari, cambiando mezzo di locomozione di volta in volta, abitando in luoghi di fortuna, mai nella propria residenza o nel proprio domicilio. Per questo l'avevamo definito un fantasma. Truffa, falso e millantato credito. Sono questi i reati emersi dopo un'operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinati al Pullo per i reati contro la pubblica amministrazione della locale Procura della Repubblica, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia a cautelare gli arresti domiciliari nei confronti di sei soggetti, tutti catanesi, responsabile a vario titolo di questi reati. In particolare, il sudalizio ha raggirato oltre 300 persone, prospettando falsi sgravi di cartelle sattoriali, per un ammontare complessivo di 3 milioni e mezzo di euro, percependo un illecito profitto per oltre 700 mila euro. Gli arrestati sono Livio Sorrentino, nato a Catania il 27 gennaio del 69, promotore finanziario incensurato. Andrea Fischetti, anche egli nato a Catania il 17 luglio del 69, promotore finanziario incensurato. Corrado Alfio Santonoscito, catanese del 27 giugno 67, disoccupato e incensurato. Maurizio Salvatore Affetta, nato a Catania il 2 settembre del 68, dipendente di un ente di formazione, anche egli incensurato. Fabrizio Nicola Pappalardo, nato nella nostra città il 311.970, grafico pubblicitario incensurato. e Antonio Zullo, nato a Giardini Naxos, nel Messinese, il 4 settembre del 57, dipendente di un ente di formazione. Le indagini sono partite dalla denuncia di alcuni imprenditori catanesi, ai quali è stato proposto dai promotori dell'organizzazione, Affetta Morizio e Sorrentino Livio, l'annullamento e le rispettive cartelle esattoriali, pregio pagamento di somme significativamente inferiori rispetto a quanto dovuto. Le investigazioni al nucleo di Polizia Tributaria di Catania, condotte anche attraverso l'ausilio di intercettazioni audio-video, hanno consentito di raccogliere importanti elementi di prova nei confronti ai sei indagati, i quali avevano costituito una vera e propria società di fatto del settore dell'intermediazione e della prestazione di servizi, con una precisa ripartizione dei compiti e dei ruoli. Il servizio principale offerto alla clientela consisteva nella definizione delle proprie posizioni debitorie presso la serie TESPA. L'organizzazione prometteva di riuscire ad annullare cartelle esattoriali di importi anche molto elevati, a fronte all'appagamento di una somma pari al 30-40% del debito iscritto. Per invogliare la clientela e avvalorare l'efficacia della transazione, oltre a prospettare le opportunità derivanti dal non meglio precisate leggi e regolamenti di recente introduzione, gli arrestati millantavano relazioni privilegiate con funzionari e dipendenti e lenti riscossioni in realtà del tutto inesistenti. Nell'ambito della consorteria criminale, i ruoli erano ben distinti. Sorrentino e Affetta hanno agito come promotori del suo delizio contattando i clienti e formulando personalmente la proposta illecita negli uffici di Via Teramo 21, luogo dove svolgevano l'attività regolare di promotori finanziari. È proprio nell'ambito della loro attività lavorativa che i due indagati riuscivano a individuare i debitori ai quali proporre gli illeciti sgravi. Fischetti e Santonoscito hanno avuto invece il compito di verificare le posizioni debitorie dei clienti presso gli uffici Serit di Corso Sicilia e di commissionare la falsificazione dei documenti a Zulle e Pappalardo. Quest'ultimi utilizzando specifici software e apparecchiature informatiche provvedevano poi a falsificare le ricevute e le attestazioni di pagamento Serit alle quali, come appurato nel corso delle intercettazioni telefoniche, veniva attribuito il nome in codice di Triglio Sogliola. Una volta prodotta la documentazione falsa, comunque contenente i corretti riferimenti al numero della cartella esattoriale e al debito complessivo, questa veniva consegnata al cliente raggirato, ingenerando così nel contribuente la falsa certezza di avere definito la propria posizione debitoria con l'erario. Quando dopo qualche tempo i clienti giungevano a nuove richieste di pagamento della cartella da parte della Serit, i promotori e le organizzazioni si giustificavano adducendo anomalie del sistema informatico della società di riscossione. Nel corso, le indagini sono stati così acclarati 330 episodi di truffa, con correlativo danno sia per i clienti che hanno visto aggravata di ulteriori interessi e onere la propria posizione debitoria, sia per l'ente di riscossione che ha sostenuto maggiori costi derivanti alla necessità di avviare ulteriori iniziative di riscossione. Dall'esame di migliaia di posizioni debitorie e dall'analisi della documentazione sottoposta a sequestro nell'ambito delle varie perquisizioni, i finanziari hanno inoltre riscontrato che l'organizzazione si è dedicata anche alla produzione di falsa documentazione per ottenere prestiti e mutui. Questo compito era demandato allo Zullo, il quale si è dimostrato particolarmente abile nel replicare documenti di identità, libretti postali, timide della pubblica amministrazione, nonché documenti fiscali vari. Le fiamme gialle del comando provinciale di Messina, sotto il coordinamento dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia, dottor Vito Di Giorgio e dottor Fabrizio Monaco, stanno conducendo una complessa operazione volta a disarticolare un contesto criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti nell'area sud della provincia di Messina e in quella di Catania. Le indagini, avviate a fine 2011, vedono oggi impiegati oltre 60 militari che stanno dando esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare, di cui cinque in carcere, oltre a numerose perquisizioni tra Messina e Catania, con la collaborazione dei comandi provinciali di Napoli e Forlì-Cesena. L'attività investigativa ha preso le mosse dalle notizie di un'attività estortiva e usuraia che vedeva al centro la figura di Cipolla Maurizio, personaggio già coinvolto in vicende giudiziarie per fatti di mafia, tentato omicidio e traffico di droghe. Durante lo svolgimento delle indagini, inoltre, sono state arrestate in flagranza altre cinque persone per fatti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrata la cocaina e la marijuana in loro possesso. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno inoltre ricostruito ipotesi usuraie e di estorsione, nelle quali piccoli prestiti o debiti di qualche migliaia di euro, sono lievitati considerevolmente con l'applicazione di tassi illeciti che hanno toccato quasi il 500% annuo e che si caratterizzavano anche per l'uso di violenza e privazione della libertà personale per obbligare alla restituzione delle somme. Da 27 mesi non prende lo stipendio, così un dipendente dell'ARAM-IFP, ente di formazione di Catania, ha messo in mendito il rene ad accedere al miglior offerente per andare avanti. Una protesta estrema che segue quella di alcune settimane fa quando un uomo si incatenò e cancede l'assessorato regionale alla formazione professionale a Palermo. Un dramma comune, centinaia di famiglie oneste, dignitose, distrutte e divorate dal mosso della formazione siciliana, dice il segretario della Cisle Sicilia Maurizio Bernava, che ha spedito nel pomeriggio di ieri un messaggio accorato al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e all'assessore della formazione Nelliscilabra perché dì una risposta concreta e in tempi rapidissimi al dramma umano di Giuseppe Radduse e della sua famiglia. Oggi Radduse è tornato a incatenarsi davanti all'assessorato e ha messo in mendito il rene un gesto disperato che suona al tempo stesso come un atto d'accusa. Fate di tutto, scrive Bernava, presidente e assessore, per pagare almeno una parte degli stipendi oltretutto perché vanno restituiti fiducia e senso di giustizia specie alle persone e alle famiglie oneste. Sono 151 le IPAB presenti in Sicilia non vivono certo bene queste IPAB e i lavoratori che all'interno vi operano 90 sono in grande difficoltà se poi ci spostiamo al comprensorio della provincia di Catania ci sono lavoratori che da più di un anno non prendono stipendi alcuni sono arrivati anche a tre anni senza stipendio. Qual è la proposta dei sindacati? Questo sitino davanti alla prefettura vuole essere un momento per far capire alla cittadinanza alle istituzioni che è veramente un gravissimo problema questo delle IPAB molte sono in difficoltà addirittura si parla di un buco di oltre 30 milioni di euro che sono stati sperperati perché il susseguirsi dei vari commissari ha prodotto sempre questi buchi di bilancio allora la proposta che è tra l'altro contenuta nella legge di riforma che giace nei cassetti regionali senza che qualcuno si prenda la briga di portarla alla luce prevederebbe una rifunzionalizzazione laddove le strutture efficienti potrebbero essere convertite in aziende pubbliche per servizi alla persona le altre quelle meno virtuose potrebbero essere riconvertite in fondazioni di diritto privato per far sì che i bilanci i consigli di amministrazione finalmente possano avere un quadro chiaro con notevoli risparmi perché il problema riguarda circa 2000 dipendenti di cui 800 a tempo indeterminato e poi ci sono circa 1200 professionisti a vario titolo precari medici infermieri che non riescono ad andare avanti a dare l'assistenza e quindi c'è una sofferenza complessiva sia del personale che non ha più stimoli e motivazioni fra l'altro non ricevendo nemmeno lo stipendio ma il disagio viene creato ai pazienti agli anziani ai disabili ai minori che non riescono ad avere le cure necessarie essenziali per la sopravvivenza quindi noi solliciteremo con un incontro all'assessore Ester Bonafede di iniziare questo percorso per dare finalmente voce luce lustro e speranza quelle che sono le aspettative di queste persone Nonostante le grandi difficoltà che attraversano questi lavoratori loro comunque continuano a espletare il loro servizio perché si rendono conto di quanto sia fondamentale aiutare chi è meno fortunato e chi soffre ma questa situazione comunque deve finire È una situazione paradossale e scandalosa perché quando per 14 diconsi 14 mesi non si fruisce dello stipendio c'è qualcosa non che non funziona è qualcosa che va radicalmente cambiato e mutato al di là delle parole delle manifestazioni che sono un momento come dire di visualizzazione delle problematiche bisogna intervenire per vedere dov'è il vulnus c'è una problematica noi dobbiamo andare ad una problematica di base questi fondi dove dove sono perché si sono prodotti queste voragini non questi buchi di bilancio finalmente si vuole cercare una responsabilità perché è assurdo che in questo paese nessuno è responsabile di niente allora il sindacato si farà portavoce di queste istanze con la prefettura ma che si trovino innanzitutto delle soluzioni per istituire dignità e la dignità passa attraverso la puntualità degli stipendi dopodiché si dica che progetto ha la regione lo Stato i commissari non si mandino commissari per che cosa per quale progetto per quale fine per quale situazione globale come dire è il momento di dire assolutamente basta il ministro dell'interno con direttiva in data 13 maggio 2014 ha determinato per l'anno 2014 gli obiettivi generali i programmi prioritari nonché i criteri per la concessione dei contributi a valere sui fondi lire unra amministrazione delle nazioni unite per l'assistenza e la riabilitazione per un milione di euro complessivo così ripartito 700 mila euro per servizi di accoglienza abitativa di assistenza e senza fissa dimora di distribuzione alimenti 300 mila euro per interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti i contributi sono destinati a interventi socioassistenziali aventi come destinatari soggetti che si trovano in condizione di marginalità sociale e di stato di bisogno le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il portale www.fondounr.dlci.interno.it a partire dalle ore 12 del giorno 7 luglio 2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12 del 7 agosto 2014 la circolare del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in data 7 luglio 2014 che fornisce le indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di contributo è pubblicata sul sito web del ministero dell'interno www.interno.it per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio di gabinetto della prefettura nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 spaccatura profonda al comune di mister bianco si sono infatti dimesse il vice sindaco e un assessore per tornare a fare ciò dicono per cui ci siamo candidati e siamo stati eletti vera e sana politica per mister bianco a dirlo sono appunto Carmelo Santa Paola vice sindaco di mister bianco con delega allo sport alla manutenzione al verde pubblico e l'assessore del medesimo comune Razio Panepinto con delega alle attività produttive alla protezione civile siamo anche stati chiamati per tentare una mediazione ma noi non siamo legati alle poltrone e con questo gesto vogliamo dimostrarlo in maniera evidente al contrario siamo legati al territorio che ha attributato circa 4.000 voti alle liste civiche che rappresentiamo e che hanno consentito al sindaco di guardo la sua elezione l'apice dello scontro si è toccato sabato quando davanti ad un consiglio comunale convocato in situa straordinaria ma privo del numero legale per l'assenza e la quasi totalità dei consiglieri il sindaco ha preso ugualmente la parola sfiduciando di fatto il suo vice ed anditandolo come assente nella vicenda riguardante la discarica sono affermazioni prive di fondamento dice Santa Paola visto che già nel 2011 aveva votato contro la discarica e per ben due volte ho preso parte alle manifestazioni organizzate proprio al sindaco sullo stesso argomento cose queste che ho detto anche al sindaco quando ho avuto l'avventura di incontrarlo ben 48 ore dopo la sua sortita non si tratta soltanto e la vicenda e la discarica continuano Santa Paola e Pane Pinto di guardo attualmente un uomo solo al comando è un modo superato di concepire la guida di un'amministrazione come la nostra nel tempo è venuto meno il confronto sui grandi temi che riguardano l'intera comunità e questo ci impedisce di restare all'interno della giunta nell'arco di qualche ora è così nato il nuovo gruppo che rappresenta un terzo dei voti del consiglio si chiama vivi mister bianco libera con 10 consiglieri su 30 provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione guideremo insieme questo nutrito gruppo concludono i due dimissionari e lo faremo nell'interesse della città valutando gli atti che ci verranno proposti caso per caso facendo politica attiva libera e indipendente al servizio solo della comunità Grazie a tutti